bentornati 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 sul canale giornata di vigilia vigilia di inter fiorentina partita molto delicata partita molto delicata che vede l'inter di fronte a di fronte a una squadra reduce da sette vittorie di fila tra campionato e coppa e soprattutto una una uno stato di grazia veramente dei dei viola che non perdono mi sembra da non perdono da i da juve i fiorentina credo comunque è in una delle fasi migliori degli ultimi anni quindi una fiorentina che sta benissimo che ha pochi problemi fuori sirigu ma è il vice di terracciano fuori jovic ma anche qui c'è cabrale sta facendo benissimo qua me comunque è tornato bene anche dalle nazionali quindi armi a disposizione a josa per italiano dall'altra parte invece problemi per quanto riguarda simone inzaghi che per certi versi recupera alcuni uomini e per altri ne perde ne parleremo ma parleremo anche secondo me del fatto arbitrale che è passato molto inosservato anche a causa grazie o a causa dipende dai punti di vista della sosta nazionale ma bisogna parlarne bisogna parlarne parliamo dal campo però partiamo dal campo assente di marco assente anche di marco oltre chiaramente a e allo squalificato d'ambrosio quindi per per inzaghi la situazione si fa si fa complessa si fa complessa si fa complessa perché non è non sarà facile gestire le forze considerando che poi ci sarà la juventus poi ci sarà la trasferta con la slernitana e poi ci sarà la partita tanto attesa col benfica detto questo torna gosens torna bastoni bisognerà capire come torneranno bastoni non dovrebbe non dovrebbe partire titolare invece dovrebbe partire titolare gosens anche perché senza d'ambrosio e senza di marco li le soluzioni latitano quindi difesa che dovrebbe essere la stessa di inter juve ossia con darmian terzino destro acerbi terzino sinistro e defray centrale in panchina bastoni e fontana rosa considerando anche l'assenza di screener restano veramente problemi in difesa perché non hai più senza screener senza d'ambrosio non hai ricambi eventuali per darmian e sull'esterno restano appunto quelli che giocano titolari cioè dunfries e gosens più bellanova e nel caso zanotti a centrocampo fuori ciala quindi chiavi della mediana affidate a brosovic con barella e mkhitaryan mezzali in panchina alternative gagliardini e il tanto caro aslani chissà che non possa avere più di qualche minuto aslani tra domani la coppa italia io mi auguro mi auguro di sì davanti ci si aggrappa al ritorno di lukaku che io personalmente non ho visto scintillante ho visto le partite del belgio sia con la svezia che nell'amichevole con la germania non ho visto un lukaku scintillante ma ho visto lukaku comunque sicuramente più convinto e quindi quello fa tanto l'aspetto mentale lo sappiamo fa tanto e può aiutare sicuramente aiuta anche alla ricerca della forma migliore lautaro non l'ho visto benissimo ma non è una novità è da un po e magari domani chissà sarà veramente la partita del della svolta della lula in stagione ce lo auguriamo un po tutti ce lo auguriamo un po tutti perché perché serve serve soprattutto in questo periodo servono due due giocatori così è evidente è evidente anche perché gecko non sta benissimo ha questo dolore alla schiena e al contempo poi c'è correa anche lui fermo a lungo è tornato un po con la juve ma ancora non è al cento per cento in più carboni quindi a quelli che dicono è la rosa dell'inter super lunga super accessoriata garantissime opzioni sì ma anche no sì ma anche non vuole essere un alibi è perché la rosa dell'inter è una rosa secondo me di livello ma non tanto da vinciamo contro tutte e tutti se non vince lo scudetto no non è così poi è chiaro che il dislivello dal napoli anzi a proposito di napoli nel frattempo la maledetta sosta ha colpito anche il napoli osimen distrazione alla coscia fermo dicono due settimane potrebbe saltare anche l'andata dei quarti di champions contro il milan per giocare con la nigeria e ripeto io ragazzi amo le nazionali se qui giro la telecamera la videocamera ho le maglie di olanda germania cile argentina brasile eire olanda yugoslavia ovviamente italia e ce ne potrei mettere anche di altre scozia però voglio dire vogliamo un attimo pensare a questo calendario internazionale siamo nel 2023 ancora non riusciamo a incastonare perfettamente le date dai e parliamo un attimo di arbitri parliamo un attimo di arbitri allora come sapete come tutti quanti sapete quello che è successo nell'ultima giornata di campionato cioè il disastro il disastro di mazzoleni e chiffi non solo loro è perché c'è anche la var non è così non è così lineare la situazione però anche i guardalini potrebbero vedere insomma quello che alcuni hanno visto alla tribuna no il riferimento è ovvio al doppio fallo di mano di braccio anzi rabbio e e vlakovic detto questo è passati in cavalleria totalmente passati in cavalleria in zaghi ne ha parlato ne ha parlato qualche organo di stampa ma non così maniera così vehemente o comunque che meritava nella maniera che meritava rocchi ha fatto la sua sparata ore dopo quanto è accaduto tutto bene la gestione di quel fatto andava benissimo il caso si è parlato di caso rabbio quando invece c'era anche un caso vlaovic quindi anche parlare solo del caso rabbio vuol dire non aver capito nulla di quello che è successo l'intero ovviamente stramuta parte in zaghi e qualche calciatore insomma che ha detto la sua anche in maniera educata darmian nel post partita go sense a cerbi c'è tornato c'è tornato ieri dicendo fallo di mano netto però potremmo fare di più anche in maniera onesta e ripeto da rocchi tutto tace tutto bene ci sono le designazioni per il turno del weekend quindi quello che parte domani ebbene designato dei rocchi non ha in ferma né kiffi e né mazzoleni kiffi per la ventottesima giornata di serie a è stato scelto come var di roma sampdoria mazzoleni è stato scelto come var per forza perché lui in campo non va più come var di bologna udinese però mi domando io ma siamo tutti rimbecilliti noi o c'è qualcosa che non va perché qui parliamo di inter juventus va bene ma parliamo di errori gravissimi non parliamo di errori soggettivi no no parliamo di errori gravissimi errori oggettivi errori oggettivi errori oggettivi che avrebbero dovuto quantomeno far pensare di dare una pausa di riflessione ai protagonisti in negativo e invece a quanto pare nulla nulla condito col niente e l'inter comunque continua a subire in un paese in cui la cagnara la fa da padrona l'inter sta in silenzio non si capisce bene a chi fa piacere questo silenzio stiamo in silenzio grazie grazie grazie